Sport volley maschile, ieri il Castellana ha battuto 3 a 1 il titolatissimo Piacenza in matematico e alle finali alle payoff Scudetto. Sentiamo Enzo Del Vecchio. Quarta vittoria consecutiva della BCC NEP Castellana Grotte che ieri ha battuto per 3 a 1 la terza forza del campionato copra Elior Piacenza. Un successo prestigioso in un palagrotte invisibilio che rivela l'ottimo stato di forma raggiunto dagli uomini di Flavio Gulinelli, da ieri sera entrati ufficialmente nei playoff Scudetto in virtù dei 13 punti di distacco dalla squadra undicesima in classifica. Ma la formazione del presidente Gaetano Carpinelli non vuole fermarsi più e punta a conquistare l'ottavo addirittura alla settima posizione in classifica, obiettivo che darebbe ai castellanesi la possibilità di disputare nel palagrotte l'eventuale gara di spareggio. I playoff cominceranno il 13 marzo e la squadra di Gulinelli sembra avere tutte le carte in regola per togliersi non poche altre soddisfazioni. Fenomenale nei numeri dell'incontro con Copra, Elior e Piacenza il rendimento di Sabbi con il libero Paparoni capace di sfoderare colpi da cineteca del volley. Non meno importante l'apporto arrivato dai giovani in panchina come Dolfo e Ricciardello. Ma vediamo lo score dell'incontro, Sabbi sugli scudi con 26 punti, Alex Ferrera il portoghese con 12 punti, Cester 10, Iosifov 9, Falaschi 6. BCC NEP Castellanagrotte è attesa ora da due trasferte consecutive, la prima con Itas Diatec Trentino e la seconda con gli eterni rivali dell'Andrioli Latina. La squadra di Gulinelli tornerà a giocare al Palagrotte domenica 3 marzo con CMC Ravenna.